Musica Ciao a tutti, io sono Elena e oggi vi porterò 15 tipi di persone sul treno C'è quello che parla al telefono Lui se ne sbatte che la gente sul treno voglia semplicemente farsi gli affari suoi Lui no, lui deve far sapere a tutti Sì sì perché io al lavoro ho fatto questo, ho fatto quell'altro No no ma aspetto devi chiamare inizio perché dobbiamo sistemare quel momento Non ce ne frega niente, assolutamente nulla Eppure passa tutto il viaggio in treno così a parlare al telefono, del lavoro, di come stanno i figli Non ci interessa Poi c'è quello che si lamenta Si sa che i treni sono sistematicamente in ritardo e a tutti dà fastidio Ma lui è proprio quella persona che non fa altro che lamentarsi Con tutte le persone che gli sono intorno inizia E no però non è possibile che i treni sono sempre in ritardo No no non è possibile, io faccio caso a tutti qui Io non vado più il biglietto E passa i 20 minuti di ritardo dal treno così a disturbare la gente di fianco a lui Poi c'è quello che canticchia o che fischietta Lui ha le sue belle cuffie nelle orecchie Neanche si rende conto probabilmente di far rumore, di canticchiare e di fischiettare la canzone che sta ascoltando Oppure ha la musica talmente alta che anche se stai seduto 10 posti più lontano comunque sia tu lo senti Poi c'è quello che non stacca gli occhi dal cellulare Lui è proprio lo scrittore compulsivo che sta lì, proprio che lo vedi che è su Whatsapp Che messaggia alla velocità della luce e non sta fermo un secondo Oppure se non sta messaggiando gioca a qualcosa tipo Candy Crush, Fruit Ninja Tutti quei giochinini insomma Però non ha il suo sguardo dal telefono, neanche un secondo Poi c'è quello che legge o perlomeno che vorrebbe leggere E lui in pratica è lì col suo bel libro tutto preso dalla storica E non vede l'ora di finire, di continuare, di andare avanti Ma viene costantemente disturbato dal casino che c'è intorno E quindi tra una parola e l'altra è lì che lancia sguardi truci a tutti gli altri passeggeri Poi c'è quello che rimane sempre in piedi Lui sale sul treno, vede un posto libero Corre per prenderlo ma sistematicamente E secondo prima che arriva Una persona farà il passo più lungo di lui E lo spererà e gli ruberà il posto E quindi finirà sempre in piedi Poi c'è quello disperso che non sa dove si trova Non conosce le fermate e crede che tu sia Google Maps E quindi ad ogni fermata ti chiede Scusi ma come state fermate? Ma a che paese siamo? Ma lei sa tra quante fermate devo scendere? No, non lo so tra quante fermate devi scendere Se non lo sai tu Poi c'è quello che studia, lui inizia a studiare già dall'inizio del semestre Non importa se avrà gli esami dopo sei mesi Lui inizia sin da subito a studiare Lo vedi lì super preso dai suoi libri Che di chi sottolinea, scrive appunti E lui cerca di sfruttare per bene il tempo in treno Per studiare così almeno quello non lo farselo a casa Poi c'è una categoria che proprio oggi in treno mi sono dovuta subire E queste sono quelle che non si vedono da una vita Sono generalmente ultra quarantenni Che casualmente si beccano tutte insieme In gruppo sullo stesso treno Nello stesso vagone, a stessa carrozza E iniziano a raccontarsi la storia della loro vita Dicono che cosa hanno mangiato i figli Dicono che cosa hanno comprato i figli Che poi hanno preso a scuola i figli E sono lì che ridono, scherzano E fanno tutte le occhie giulive E in pratica lo si vede benissimo Che sono semplicemente lì a farsi competizione Su chi ha il figlio migliore Chi ha il marito migliore E chi ha il lavoro migliore E sono lì che urlano E si fanno sentire da tutti E poi quando guarderete tutti gli altri passeggeri Vedrete semplicemente che tutti vorrebbero morire Piuttosto che ascoltarle Questo esemplare lo beccate solamente durante le sessioni d'esame Infatti lui è proprio la persona che quel giorno lì Avrà un esame E quindi è impanicatissimo Stesso con un altro suo amico Probabilmente saranno lì che si ripetono di tutto e di più E non si capirà assolutamente niente Perché uno inizia un argomento e uno inizia altro Rivedete subito quelli che devono dare un esame Perché veramente sono in preda al panico Poi c'è quello con mille varigie Che sarà lì che cercherà di infilare tutte le sue varigie Appunto nello scomparto in alto del treno E tu sarai lì semplicemente a sperare Che non ti cada tutto in testa Poi con tutte le sue borse e borsoni Occupa gli altri sedili Quindi tu non ti puoi sedere E occupa pure il corridoietto Quindi non riesci neanche a passare Quindi magari tu devi scendere E ti perdi la fermata Perché questo qui sta osservando il passaggio Poi c'è quello che butta giù tutti pur di sedersi Lui l'ho riconosciuto soprattutto nelle ore di punta Quando il treno è strafieno E lui lì che è proprio da aggomitate pur di sedersi Potrebbe buttare giù dalle scale pure una vecchietta E una donna incinta Lui si deve sedere a tutti i costi Poi c'è una categoria che mi fa molto ridere Quando magari sono sul treno E ho di fianco due persone E li vedo sempre In pratica c'è magari una persona che si sta facendo gli affari suoi al cellulare E c'è quello di fianco Che è lì così Che cerca di sbirciare tutto quello che fa l'altro Lo faccio anch'io Lo fanno tutti perché siamo curiosi Però vabbè Poi ovviamente c'è la persona al cellulare che si sente osservata Quindi fa per alzare lo sguardo E quello che lì così tipo Subito si ritrae o fa finta di fare altro E sono troppo divertenti da vedere Perché sono lì proprio Concentratissimi a cercare di non farsi beccare Ma allo stesso tempo a cercare di vedere che cosa fanno gli altri Però è veramente irritante Quando tu ti trovi di fianco quello che sbircia Perché sei lì Scusa ma sono affari miei Non guardare Infatti io cerco sempre di mettermi così In un angolino Comunque di non farmi vedere Perché mi dà veramente fastidio Ma non perché abbia nulla da nascondere O faccia chissà che cosa Ma semplicemente Mi dà fastidio che la gente si metta lì a sbirciare i fatti miei Cioè ma scusa Poi c'è il gruppo di amici Generalmente sono adolescenti un po' tamare Perché salgono tutti in gruppo sul treno E iniziano a fare un casino in mani Magari mettono sulla musica manetta Oppure iniziano a urlare Quello che hanno combinato durante il weekend O su tutti i fatti loro E tutte le altre persone sul treno Devono suggerire questi ragazzini Che cercano di farsi figli E poi c'è quello che crede di essere in un film Lui si mette le cuffiette nelle orecchie Si accascia contro il sedile Pronte sul finestrino E guarda fuori il paesaggio E passa tutto il viaggio Con le canzoni triste nelle orecchie A guardar fuori E contemplare ciò che vedi Insomma la classica scena da film Dove uno si fa tutti i suoi viaggi mentali Bene ragazzi Questi erano 15 tipi di persone in treno Io spero che il video vi sia piaciuto Se è così lasciatevi un like E iscrivetevi al canale Per non perdere i prossimi video E non le vi saluto Ciao